Saldi invernali, torna a salire la spesa media. Siamo ancora lontani dai 160 euro registrati nel 2020, l'ultimo inverno prima del covid, ma i 133 euro a persona previsti per questa sessione denotano un sensibile aumento rispetto ai 119 del 2022. Numeri che emergono dall'indagine previsionale condotta da Confcommercio Toscana sui dati nazionali di Federmoda Confcommercio, aumenta la spesa media ma resta stabile il numero di toscani che acquisterà capi in saldo a partire da giovedì 5 gennaio all'incirca 6 su 10. In totale il volume di affari generato in Toscana dai 60 giorni di vendita e di fine stagione potrebbe superare i 292 milioni di euro, 21 in più dell'anno scorso. A prima vista i numeri potrebbero sembrare positivi ma dietro di essi si nascondono tutte le difficoltà del momento attuale. I toscani hanno speso meno durante la stagione normale per calzature e abbigliamento, ora sono pronti a fare acquisti approfittando degli sconti, ha commentato il presidente di Federmoda Confcommercio Toscana Paolo Mantovani. Inflazione e incertezza economica non hanno certo favorito lo shopping in chiusura di 2022, un trend rafforzato anche dal clima particolarmente mite che ad esempio ha messo in crisi la vendita di piumini. Si registra la voglia delle persone di tornare a concedersi qualche gratificazione dopo le restrizioni dovute al covid, anche se si preferisce concentrare gli acquisti durante i periodi al ribasso come il Black Friday e appunto i saldi. Proprio per aspettare i saldi il flusso degli acquisti ha subito un rallentamento nel periodo natalizio vivacizzato comunque dai turisti che a dicembre hanno affollato le città d'arte facendo girare di conseguenza l'economia. In totale i negozi di moda interessati dai saldi saranno oltre 26.000 in Toscana tra calzature, abbigliamento, pelletterie, articoli sportivi, intimo e tessile.